Vorrei andare incontro con un abbraccio così caloroso, come lui è caloroso con gli altri. Io sono di un'altra religione, sono buddista. L'arrivo del Papa è una cosa veramente clamorosa. Per me, perché chiaramente riconosco nel Santo Padre una persona che mi ha colpito fin dal primo annuncio, cioè quando lui si è presentato alla cittadinanza, con quel buonasera che ancora risuona nelle mie orecchie. Un'emozione indescrivibile ricevere da noi un uomo che si abbassa a livello della gente comune. Speriamo che con la sua venuta la Chiesa si riempie di questi, diciamo, il greggio che piano piano, se perso nel tempo, che ritorni qui in questa realtà. Siamo davvero molto contenti, affaticati, affaticati, molto affaticati, perché la preparazione della visita del Papa ci sta mettendo a dura prova, ma tutto questo è per qualcosa di più grande di noi. Sono certo che il Signore sta operando anche attraverso questa visita nella nostra comunità parrocchiale e lascerà il segno sicuramente.